Maria De Filippi trascorrerà le prime vacanze senza Maurizio Costanzo che è mancato il 24 febbraio scorso. La conduttrice Mediaset passerà i giorni di ferie da sola con il figlio Gabriel per il momento occupato in Sardegna per le ultime puntate di Temptation Island. Ma tra una puntata e l'altra Maria De Filippi come mostrano le foto pubblicate dal settimanale chi si regala un pomeriggio libero in attesa delle vere vacanze che trascorrerà nella villa di Ansedonia ad agosto. Maria De Filippi e il figlio Gabriele sono legatissimi e tra di loro c'è una grande complicità. I due condividono anche l'amore per gli animali come dimostrano le foto che li hanno paparazzati insieme con il cane Tommy.